Ricevuto Vieni, William! Vieni, William! Attenti! Proseguiamo! Vieni, vieni, vieni! Lo stiamo operando! Vieni, vieni! Come sanno che devono venire qui? Come fanno a passare dai infetti a sonnambuli? La mente umana può sopportare il controllo di mosaico per un periodo limitato prima di bruciare e lasciarli sonnambuli. Nico riusciva a resistere? Sì, ma solo le persone con una volontà eccezionale possono farlo. Nico era uno dei pochi e anche Lawrence. La squadra di Da Silva è passata da qui. È la strada giusta. Vieni, vieni! 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 Vieni, vieni. L'altra squadra non è andata oltre, occhi aperti. Quelli sono... Redmond e Kinney. Hanno lottato fino alla fine. Maldizione. Meritavano di meglio. Due agenti morti e un infetto. Quei bastardi la pagheranno cara. Sembra una barriera difensiva. Tocca a lei, dottore. Non ci deluda. Solo un momento. Mi collego a Mosaico. Abbiamo compagnia! E ora vediamo. Di qui credo. Difendiamo il dottore! Inizio incazzati! Sì, ci sono. Le funzioni corrispondono perfettamente ai boni. È un po' come fare conversazione. Quasi convinto Mosaico. Di rialzare! Ci sbrighi, dottore! Ce l'ha beccata uno! È sicura. Fatto. Se non fosse impossibile, direi quasi che Mosaico vuole aiutarci. Ci tenga aperta la porta. Ce ne andremo in fretta. Signore, in quella navetta. I sonnamboli. Merda, che stanno facendo? Dottore, i sonnamboli sono su una specie di catena di montaggio. Può fermarla. Temo di no. Quel sistema è troppo sicuro. Mosaico ne sarebbe piuttosto seccato. Non mi importa cosa vuole Mosaico. Può fermarlo. Qualsiasi tentativo attiverebbe ogni allarme della torre. Maledizione. Abbiamo perso la città. I soldati e ora stiamo perdendo tutta la popolazione. Come diavolo dovremmo riuscire ad aiutare? Provando quel tracciatore, così potremo reagire e impedire che questo succeda al mondo intero. Giusto. Ha ragione, dottore. Dobbiamo concentrarci. Ce la farai, Carter. Abbiamo tutti fiducia in te. Abbiamo tutti fiducia in te. Che diavolo è quello? Sembra che abbiamo trovato uno di quei cosi utilizzati a Fort Groom. Incredibile. Secondo Mosaico, l'intera torre è cresciuta da quell'unica fonte di energia. E ne produce ancora. Quindi questa non è l'unica torre che intendono costruire. Mosaico dice che c'è un proiettore di materia che può portarvi più avanti. Una specie di ascensore. Più o meno. Salite sulla piattaforma circolare e premete il pulsante. Beh, proviamoci. State tutti bene? Dove siamo, dottore? Grazie al cielo. A livello di attracco, a circa metà della torre. Non guardate di sotto. Vi ho mai detto che odio le altezze? Forza, dobbiamo attraversare il ponte. Grazie a tutti. Dottore, quei trasporti sono pieni di sonnambuli. Vogliamo spedirli sul loro pianeta natale? Questa è inquietante. Mi dica che può fare qualcosa per per me. Qualsiasi cosa. Mi dispiace, Carter. Mosaico non mi permette di intervenire. Dannazione. ? Grazie a tutti. 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 Non ci hanno ancora scoperti. Contatto! Scudi, colpiamoli! Gli scudi sono andati. Colpiamolo ora! Mi riposiziono. Non ci hanno scoperti. 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 È così vasto. È così mostro. Continuiamo! Aspetta! Vi raccomandate! Stanno mantenendo quell'area. Attendo ordini. Eliminatelo. Sparo sul tuo bersaglio. Scudi sfondati. Colpiamolo. Sta richiamando i forzi. Sto ricaricando. Mi hanno colpito. Teneteli sotto pressione. Blob attivo! Blob attivo! Granata! Aiuto! È ancora vivo! Forza! Va bene! Dietro quel riparo! Mi muovo! Non è posizione! È una brutta posizione! Abbattetelo! Ricevuto! Mi serve il supporto! Scudi sfondati! Colpiamolo! Soltati di scudi! Il nostro corpo è andato! Il nostro corpo è andato! Hanno degli scudi. Oh! 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 E mi chi d'avvicinamento! Wow! Oh! 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 Stanno avanzando! I bastardi sono corazzati! Blob schierato! E' una brutta posizione, Capo! Abbattete le sue difese! Viste polizia del bersaglio! All'attacco! E c'è mondo! Prenda la mira! Sono a terra! Oh! 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 Non resisterò a lungo! Uno a terra! Fornisco cure! Bersagli abbattuti! Ok! Mosaico dice che siete al sicuro! Il portale è lì avanti! Presto! Prima che ne arrivino altri! Ok! Oh! Non resistere! Ho! Non resistere! Provera! Sunti che! Non resistere! Non resistere! Nessata avrò! Sì, non è vero. Ma guardate che roba. Le torri sono solo il primo passo. Una volta pronte, l'invasione effettiva finirà nel giro di poche ore. Ok, dottore. Sono al portale di Venn. Mi indichi il transponder e andiamocene subito da qui. Il transponder è pronto per il recupero. Ricevuto. Appena l'avremo recuperato, torneremo da lei. Grazie.